Ci proviamo, un irresistibile richiamo. Era magnifico anche il tempo, che buoso era. Quando ancora stavamo uniti, infinitamente, al luogo e le persone che abbiamo credito, amore e nascere. Il tuo corso è come una pietra, cubierta da muscoli, una della colonna. Il tuo corpo è coluna di fogo, che sempre arde e ha sempre arde. Il mio braccio è colunito facilmente, e tu, due sospettate, il tuo corpo. Il mio braccio è colunito facilmente, e tu, due sospettate il tuo corpo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sonido de campanas Lejano, irresistible En el reclamo Que invita la primaria De la tarde Grazie a tutti.